Compriamo locale, compriamo sardo. Un appello che parte da Confartigianato Imprese Sardegna per invitare i consumatori ad acquistare direttamente dai produttori, dalle attività artigianali e commerciali locali. Settori che ancora adesso sono penalizzati dall'emergenza covid con attività spesso costrette a chiudere. Un giro d'affari, quello delle spese natalizie in beni prodotti sul territorio isolano che Confartigianato Sardo stima in 621 milioni di euro e che darà lavoro a circa 7.000 imprese artigiane, per lo più a gestione familiare e 16.000 addetti. Alimentazione e abbigliamenti e accessori da soli rappresentano i tre quarti della spesa totale stimata, ma saranno significative anche le spese per mobili a redo, articoli per la casa, giocattoli e libri, beni e servizi per la cura della persona. Quella di Confartigianato Imprese Sardegna, sottolineano il presidente Antonio Mazzuzzi e il segretario Daniele Serra, non è una campagna contro qualcuno, ma è un appello a prediligere prodotti di qualità e provenienti dal territorio, senza considerare che la stragrande maggioranza delle attività artigianali e commerciali in questi mesi ha adottato servizi di vendita online, così come la consegna in delivery per favorirne la distribuzione. Non è vero che l'emergenza sanitaria abbia imposto sacrifici a tutti, continuano Mazzuzzi e Serra, non di certo i colossi delle vendite online che negli ultimi tempi hanno raddoppiato il fatturato a un ritmo dieci volte superiore a quello delle grandi aziende manufatturiere. Per questo Confartigianato Sardegna chiede di acquistare dagli artigiani del territorio, perché è un gesto di cura per il luogo in cui viviamo, per preservarne la vitalità e l'unicità, ma anche per sostenere le imprese locali, garantendo di conseguenza il benessere dell'intera comunità.